facciamo questa voglio dire, la facciamo insieme lo capisci adesso o te lo devo spiegare adesso ti capisco benvenuti nel mondo grazie il mondo praticamente è tipo il maestro è un tu qui della situazione quindi non vai così quando il sole muore fiore perdi il tuo colore le qualità che ti hanno reso vero ma chi lo dice che il cuore è vero come un copro sotto pressione o un asilo sotto il bastone o un bimbo sotto l'indicazione o uno schiavo sotto un padrone così quando il sole muore così quando il sole muore fiore perdi il tuo colore come un'esilo come un'esilo come un copro come un copro sotto il mare come un lavoro sotto il capitale come un diverso sotto il cuore sotto il cuore come un'esilo sotto il normale così quando il sole muore come un'esilo come un'esilo più come un'esilo come un'esilo come un'esilo come un attore sotto distruzione, così quando si muore, il fiore perdi il tuo colore, le qualità che hanno detto vero, ma chi dice che il fiore è vero, ma chi dice che il fiore è vero. Oh sì, quando si muore, il fiore perdi il tuo colore, le qualità che hanno detto vero, ma chi dice che il fiore è vero. Signore e signori, Sergio Rezzali! Allora qui, ai signori! Tagliere Camponi! Il suo indiscusso è un gioco di tiro a dito, ancora forte è il maestro Peppe Camponi! Il suo indiscusso è il suo indiscusso è il suo indiscusso è il suo indiscusso! Signore e signori! Massimo Vecchi! Grazie! Grazie mille! Firmati, firmati, così quando il solemo vale, ma il fiore è il tuo cuore, lì l'unità, il piano è superato, ma chi lo dice che il fiore è il tuo cuore? Grazie, grazie, grazie mille!